La castagna è il frutto dell'albero, castagna asativa. La famosa castagna della Valle di Roveto è una varietà del marrone fiorentino, diffusa con particolare sistematicità all'interno del Parco Nazionale del Gansasso e Monti della Laga. La castagna presenta il pericarpo, l'ilo, la torcia, l'episperma e il seme. La forma dei frutti dipende oltre che dalla varietà delle castagne, anche dal numero e dalla posizione che essi occupano all'interno del riccio. Il riccio in un primo momento è di colore verde, in seguito a maturazioni diventa giallo brunastro e internamente di colore crema rivestito da peluria. Le castagne, oltre ad essere sane, sono un alimento saziante grazie alla presenza di fibre. Rinforzano i denti e ossa in quanto contengono fosforo, magnesio e calcio. Sono prive di glutine, sono ricostituenti, regolano l'intestino, abbassano i livelli di colesterolo LDL, possiedono acido folico, ottimo in gravidanza, in caso di anemia. Grazie alle vitamine del gruppo B proteggono le funzioni cerebrali e hanno un buon contenuto di antiossidanti.